Ciao a tutti, ci vedremo domani in Cagliareggio 2022, che sarà il primo corso. Se volete potete venire anche voi, tipo il mio compagno di scuola, dal Cagliareggio Valle, che non ce l'ho mai visto, dal Cagliareggio Valle, ma vabbè. Ciao a tutti, benvenuti in questo video, e se vi piace andate su unico.it, che è il mio sito, e guardate tutti i miei video. Ci sono solamente i miei video, ok? Se ne volete vedere uno, guardate lui, ok? E' l'unico posto dove ci sono. Ciao! E ci sono tutti!